come ha detto quello è perigeo a 363 mila chilometri no perché è più vicina praticamente è più vicina e coincidere per essere una luna di mercurio deve essere luna piena deve essere sul perigeo e deve essere nella stessa linea di mercurio ma sapete che è decisamente enorme non mi serve però il cavalletto però riesce a puntarla perché riesco a puntarla solo che non ha un minimo di movimento leva la messa a fogo